Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video continueremo a stare sulla mod della vita reale ragazzi nello scorso episodio abbiamo lavorato come meccanico al nostro lavoro nell'officina e abbiamo fatto svolto un bellissimo lavoro abbiamo venduto un'auto e ci abbiamo guadagnato 1400 euro ma comunque ragazzi non so che cosa diamine stia facendo Anna oggi è veramente incredibile guardate gira in tondo non ne ho idea vabbè comunque ragazzi quello che faremo in questo episodio sarà molto molto interessante perché ragazzi vi ho detto tempo fa che ci sarebbe stata una sorpresa e la sorpresa ragazzi la vedremo oggi perché semplicemente perché la sorpresa effettivamente era un biglietto per andare in Alaska a sciare ragazzi faremo una settimana bianca assieme ad Anna e nessun altro sulle piste da sci quindi naturalmente per Andreas ci sarà una babysitter che è già arrivata e si trova di sopra al momento e inoltre i nostri cani verranno anche visti e controllati da questa babysitter quindi una babysitter un po' tutto fare che ci controlla sia nostro figlio che anche i cani perché noi ragazzi prendiamo un weekend fuori dal lavoro e andiamo a fare quello che per una cosa o un'altra non siamo mai riusciti a fare perché ragazzi il lavoro e le vacanze e questo e quello non siamo mai andati a sciare quest'anno quindi prima che la neva si sciolga completamente naturalmente qua vedete è completamente sciolta già quindi è stato qualcosa di veramente breve ma in ogni caso andiamo a sciare dove la neve c'è ed è in Alaska e sarà veramente veramente fantastico ragazzi quindi io direi che adesso usciamo da qua ma naturalmente per poter arrivare in Alaska dobbiamo prendere l'aereo quindi oggi dobbiamo andare all'aeroporto ora è una bellissima giornata infatti c'è anche gente con il jet ski vedete con la moto d'acqua che passa là fuori un sacco di imbarcazioni veramente guardate c'è una barca lì e poi ne ho vista anche uno yacht non troppo lontano eccolo lì guardate che figo bellissimo quindi adesso torniamo sopra appunto perché voglio farvi vedere innanzitutto la babysitter e poi anche le valigie ragazzi siamo pronti a partire in pratica ok dove diamine si trova non ne ho idea ma eccola qua eccola qua ciao ehi come va buongiorno quindi lei ragazzi sarà la babysitter che beh non è come la prima babysitter che abbiamo avuto vi ricordate quando c'era Sara lei si che era una signora babysitter ma lei è una signora babysitter nel senso potrà anche non essere il massimo della presentabilità ma sicuramente è il massimo come babysitter è una delle migliori almeno credo che ci sia in in città quindi vediamo di salutarla ehi ciao bene anche molto simpatica ma comunque ragazzi andiamo via lasciamo in custodia la casa e anche nostro figlio e i cani spero che sia la babysitter giusta Anna vieni qua Anna 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 ehi seguimi che andiamo in macchina perché purtroppo è ora di andare ok perfetto quindi ragazzi una cosa la il range rover lo abbiamo lasciato in abbiamo lasciato le valigie lì davanti a tutti cioè davanti al traffico chi vuole passa e si prende le valigie non ci credo le abbiamo lasciate qua veramente comunque vi stavo dicendo che il range rover lo abbiamo lasciato in officina quindi adesso come vedete non è disponibile qua mettiamo tutte le valigie dentro la m4 quindi la bmw e siamo pronti per partire quindi penso di aver preso tutto lo snowboard non abbiamo bisogno di quello perché non ci servirà lo noleggeremo là una volta arrivati poi la giacca tutto il resto direi di sì ce l'ho a questo punto non ci rimane altro che niente prepara ragazzi e ci vediamo una volta che siamo pronti per partire così possiamo vedere bene l'itinerario di oggi ce l'abbiamo fatta abbiamo messo tutte le valigie dentro come vedete stanno perfettamente cioè guardate sembra fatto apposta per due valigie del genere cioè da marito e moglie perfetto comunque saliamo sopra la nostra m4 la bmw salutiamo la tizia che si dovrà occupare vabbè no 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 dai non tanto non l'ho già salutata prima mi ha fatto finta di niente mi ha ignorato quindi vabbè le chiavi ce l'ha è tutto pronto non so perché ragazzi mi preoccupo così tanto oggi probabilmente perché è un bel po che non ce ne andiamo via l'ultima volta che siamo andati via in vacanza veramente era in egitto ragazzi per il nostro per la nostra luna di miele vi ricordate quindi tutto questo solamente per dire che ragazzi che diamine Anna hai dimenticato qualcosa perché sei uscita entra oh che cosa sta facendo ah ok no niente si era dimenticata va bene va bene dai passa dai ok possiamo partire ora mi sa che possiamo partire siamo pronti quindi ragazzi si prospetta una bellissima un bellissimo weekend di sciate veramente incredibile ora bene facciamo retromarcia perfetto e ciao ciao casa bye bye ci rivediamo tra una settimana cioè in realtà tra qualche giorno quindi come vedete la neve qua questa specie di cosa per terra ancora non è andata via non so bene il perché come vedete anche sulla macchina c'è un po di neve adesso non no no cioè non si vede però effettivamente c'è il ghiaccio probabilmente qualcosa è ma in ogni caso ragazzi adesso dobbiamo andare all'aeroporto che si trova come sapete ci siamo stati tantissime volte esattamente qui quindi dovremo parcheggiare in uno di quei parcheggi grandi per l'aeroporto e poi andare a piedi da lì fino al gate e ragazzi saranno 4-5 ore di volo quindi non è un volo veramente lunghissimo però bisogna fare così se ci si vuole veramente divertire con le piste vere proprie quelle vere ragazzi quelle delle montagne vere prima di andare prima di farlo però io mi sa che mi fermerei ragazzi qua a prenderci un caffè si mi sa che ci prendiamo un caffè da qualche parte adesso aspettiamo solamente ok neanche finito di dire volevo dire che il semaforo diventasse verde ma appena diventato verde guardate quest'auto praticamente ingestibile sulla neve veramente con la trazione posteriore ingestibile vediamo se riusciamo a superare questi che sono più lenti di non so cosa classico di quelli che guidano una bmw ma in ogni caso oh freda freda non freda comunque ragazzi vi piace la sorpresa che vi abbiamo fatto naturalmente il biglietto lo avevamo comprato già molto tempo fa ma non volevamo spoilerare tra virgolette il viaggio che stiamo per fare quindi abbiamo preferito non dire niente e a probabilmente è stata la scelta giusta una cosa ragazzi che mi è venuta in mente inoltre è il fatto che probabilmente dovremmo ritargare una delle nostre auto oppure le auto nuove che acquisteremo a breve con la targa andreas magari perché abbiamo super abbiamo anna ma non abbiamo nulla con scritto andreas magari la moto potremo ritargare dato che non l'abbiamo mai personalizzata con la targa ok quindi invece di andare dove mi dice il segnalino proviamo ad andare qua a sinistra così mangiamo così ci prendiamo qualcosa da mangiare ogni volta ragazzi che questa macchina va in testa coda vi giuro io mi spavento tantissimo vediamo se qua possiamo prendere qualcosa si possiamo mangiare anche qua proviamo a mangiare qua e siamo pronti per fare questo volo ragazzi ah finalmente eh è tantissimo che abbiamo prenotato questo viaggio finalmente possiamo fare una settimana bianca come si deve vediamo se possiamo darle un bacio qualcosa del genere si ok ehi anna mua quindi torniamo sopra la nostra auto ragazzi dobbiamo andare a destra non c'è nessuno bene guardate l'alfa romeo giulia che bellissima auto che mi sa che ragazzi forse ci faremo un pensierino è decisamente sì l'abbiamo provata già in un raduno ve lo ricordate qualche episodio fa c'è anche bianca laggiù in fondo ed è stata veramente veramente incredibile guardate questo che diamine sta facendo potremo tenerla in considerazione di suv ragazzi ho ricevuto un sacco di proposte da voi che si tratta del maserati levante alfa romeo stelvio che purtroppo non esiste in gta e che altro ma tantissimi tantissimi veicoli che andremo a controllare insieme magari rifaremo la cosa di flicker che avevamo già fatto non lo so quello che so ragazzi e che adesso non so se lo notate ma sotto vicino al pulsante iscriviti ragazzi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi perché questi contenuti non mancheranno c'è anche un pulsante che si chiama sponsorizza ora è un pulsante nuovo che mi è arrivato penso ieri qualcosa di simile me ne sono accorto ieri quindi tecnicamente voi potete sponsorizzare il mio canale e ricevere un sacco di cose in più ad esempio potete possiamo avere una community solamente di quelli che sponsorizzano quindi ragazzi come la community di persone su telegram ma con quelli che sponsorizzano e aiutano il canale a crescere potete ricevere i video sempre un giorno prima e quindi 24 ore prima eccetera possiamo fare raduni speciali solamente con voi e penso altre cose che sicuramente ragazzi mod che io vi posso dare da scaricare cose del genere provate a vedere ragazzi se vi interessa potete sponsorizzare questo canale e se arriviamo a due persone che sponsorizzano ragazzi aspettate che questo qua ok possiamo avere delle emoji personalizzate per le live potete essere moderatori tantissime 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 cose quindi tenetelo in considerazione comunque detto ciò ormai chiacchierando alla fine ci siamo quasi arrivati perfetto non dovrebbe mancare troppo mi sa che siamo due ore e mezza in anticipo vediamo che ore sono le 15 ok si siamo due ore e mezza in anticipo circa rispetto a quando dovrebbe decollare il volo quindi almeno un po' di tempo ce l'abbiamo ma dato che per fortuna l'alaska fa comunque parte di questo stato gli stati uniti non dovrebbe ma che diamine sta facendo questo avete visto che roba era verde per me era verde per me questo ha girato mi è completamente venuto addosso ok quindi aspettate mettiamoci sul lato mi sa che non abbiamo subito danni ma è stata veramente pericolosa come situazione vediamo qua no sembra tutto a posto incredibile ragazzi non c'è un graffio che figo non c'è un graffio non ho neanche idea di come hai visto anna che roba vabbè dai saliamoci sopra di nuovo non fa niente torniamo andiamo verso quel diamine di aeroporto mannaggia ok dai ci vediamo una volta arrivati ragazzi forza volvo muoviti dai forse facciamo pure tardi magari comunque ragazzi vedete lsia la scritta los santos international airport ci siamo ci siamo e non vedo l'ora di partire quindi andiamo qua a sinistra mi pare che sia a sinistra il parcheggio almeno non l'entrata per ok terminal perfetto multi level 1 terminal 4 terminal 1 2 3 non so sinceramente quale sia il nostro terminal ma so che vedete ci sono i parcheggi enormi e quindi qua sicuramente possiamo trovare e ambientarci guardate tutti i lavoratori dell'aeroporto che figata bellissimo che girano in giro eccoci qui quindi veramente incredibile non ci vediamo ragazzi da quando siamo stati in egitto ed è veramente fantastico c'è la polizia lì tanta polizia perché c'è tanta polizia non ne ho idea wow oh diamine ragazzi non so se lo vedete ma è tipo tutto che c'è tipo tanto fumo ma tanto tanto fumo quindi non penso che possiamo avvicinarci oltre anche se non dicono niente apparentemente ok no non ci dicono niente oh mio dio mi sa che qualcosa è scoppiato ragazzi là mi sa che qualcosa ha preso fuoco lì ovviamente qua non ci fanno entrare perché non possiamo entrare ma guardate ci sono anche un sacco di giornalisti aspettate no no io non vorrei che scusano oh scusano mi dispiace ok sei tutto a posto tutto a posto sì tutto a posto io ragazzi non vorrei che qua purtroppo ok vedete c'è successo qualcosa perché è pieno di tv giornalisti e qua va tutto a fuoco non so se anche agli aerei ma spero di no vedete là sta andando a fuoco ora quindi è meglio che ci togliamo in realtà da qua perché non vorrei che poi scoppiamo assieme a tutto il resto dell'aeroporto ma detto ciò mi sa che ragazzi non è una buona notizia per noi devo fare tipo un retromarcia una specie di inversione a u quindi sarà dura se c'è qualche problema all'aeroporto lo bloccano l'aeroporto infatti per quello forse è pieno di aerei che aspettano là non vorrei che sia così andiamo a vedere ragazzi speriamo bene speriamo veramente bene innanzitutto parcheggiamoci da qualche parte parcheggio multilivello parcheggio numero 2 eccolo entrata perfetto questo è il numero 2 ricordiamoci che abbiamo parcheggiato al 2 beh direi che parcheggiamo qui qui va benissimo qua tanto è uguale va benissimo qui guardate quanta neve c'è attorno alla macchina incredibile abbiamo preso tutta questa neve su anche se anche per terra lo vedete tutto un po bagnato non è proprio il massimo e prendiamo le valigie e poi siamo pronti per andare in aeroporto Anna ok ecco fatto finalmente perfetto ragazzi quindi guardate la neve in realtà si è già sciolta dalla macchina incredibile bellissimo perché ovviamente qua fa più caldo e naturalmente la ne si scioglie subito ma adesso scendiamo da questo parcheggio che non so effettivamente da dove si scenda e poi andiamo a sentire ragazzi speriamo bene mentre andiamo all'aeroporto ragazzi stavo pensando ma se effettivamente qualcosa è successo di grave agli aerei che cosa dobbiamo fare noi effettivamente cioè loro ce lo diranno immagino ma dobbiamo aspettare un nuovo aereo o dobbiamo aspettare solamente che i pompieri risolvano la situazione e secondo me non c'è neanche troppo cioè alla fine è contenuto il danno mi pareva lo santos transit perché qua poi abbiamo anche naturalmente la metropolitana non so che diamine sta facendo quello che sta scappando da lì noi andiamo di sopra vedete c'è la polizia ovunque ma qua addirittura armata ma questo è per la metro quindi a noi non ci interessa guardate c'è una valigia abbandonata lì mai abbandonare una valigia e soprattutto nessuno se ne ha accorto strano Anna vieni qua prima che succeda qualcosa di brutto corri muoviti grazie eccoci qui dovremmo essere giusti ragazzi qua dovrebbe esserci il terminal vediamo che cosa no questi sono gli arrivi non le partenze ah ok ho un po' di difficoltà e poi una volta che le troviamo ci vediamo lì ragazzi che così possiamo finalmente entrare nell'aeroporto e vedere un attimo eccoci qua ragazzi siamo dentro guardate che figo veramente mi ricorda tantissime cose bellissime ad esempio appunto il viaggio in Egitto tutto e quelle cose che abbiamo fatto ed eccoci qua ora la gente sembra un po' calma ad esempio vedete quella lì sta dormendo lì che non so se è una barbona oppure se ok è brutto dire barbona però lo potete vedere da qua ragazzi la situazione e non mi sembra una delle migliori devo ammettere guardate ci sono delle ambulanze c'è un aereo c'è del fumo ci sono dei pompieri un po' ovunque c'è gente morta c'è gente morta qui lo vedete oh mio dio sotto l'ala oh cavolo ok quindi qua si si tratta di qualcosa abbastanza grave probabilmente delle esplosioni molteplici e non so bene per quale motivo da dove e andiamo a sentire che cosa hanno da dirci al check in oddio che cosa facciamo adesso bene ragazzi eccoci qua siamo al check in e beh c'è un po' di fila quindi dobbiamo aspettare il nostro turno sfortunatamente però il problema è che non so perché ci sono dei poliziotti dietro vedete anzi lì la posizione è chiusa anche se c'è la tizia anche se è chiuso e non c'è nessuno non lo so in ogni caso purtroppo non si mette bene la situazione oggi che cavolo proprio oggi ragazzi dovrà succedere qualcosa del genere ok ragazzi eccoci qua siamo in fila e purtroppo ho una bruttissima notizia per voi come vedete lassù non c'è assolutamente niente nessuna comunicazione nessun volo tutto spento perché non solo stanno avendo dei problemi del genere ma stanno anche avendo dei problemi proprio di corrente quindi non so se lo vedete ma è tipo tutto fermo niente in movimento i rulli non vanno non va assolutamente nulla è tutto spento è tutto bloccato infatti neanche le luci mi pare che vadano infatti è molto più buio rispetto al resto comunque questa parte purtroppo è chiusa il volo ce l'hanno cancellato ragazzi cancellato e quindi ci metteranno sul prossimo volo disponibile appena ci sarà naturalmente l'Alaska non è una cosa molto straordinaria quindi ci sono voli abbastanza frequenti anche se non è una grande meta turistica ma ovviamente per ovvie ragioni ma sembrerebbe che appunto dovremo aspettare dovremo aspettare un giorno 8 ore non lo so bene ma purtroppo avendo comprato il biglietto più economico non ci rimane altro che aspettare qua in aeroporto non essendo business non ci danno nemmeno l'hotel non ci danno assolutamente niente dobbiamo rimanere qua ad aspettare il nuovo volo e si spera ragazzi che ci sia il prima possibile da quello che ha detto lei il volo dopo sarà domani il problema di domani è che non sanno se ancora si saranno riparati tutti questi problemi gli incendi le morti eccetera eccetera quindi non si sa se ce la faremo ma si spera di sì ragazzi guardate c'è fumo addirittura che arriva dentro qua torniamo da Anna ragazzi che naturalmente ci stava aspettando laggiù nel terminal e le diciamo la brutta notizia è quello che dobbiamo fare dobbiamo solamente aspettare e quindi purtroppo il nostro volo è stato cancellato io non ci voglio credere è un brutto disagio per noi ciao Anna come va tutto bene purtroppo ho una brutta notizia come vedi è già venuta sera e non abbiamo combinato niente mi vuoi stare a ascoltare o vuoi girarmi intorno fino alla fine? vuoi ascoltarmi oppure no? ok quindi quello che volevo dirti era il fatto che purtroppo ci hanno cancellato il volo di oggi perché come vedi beh è tutta una situazione un po' strana quindi ci rimetteranno sul volo domani ma dobbiamo aspettare un giorno intero non ci daranno un albergo perché non abbiamo la business dobbiamo aspettare qua come quella barbona a dormire lì sulla panchina inoltre detto ciò purtroppo l'albergo la prima notte dell'albergo la perdiamo Anna quindi abbiamo pagato praticamente inutilmente e ci facciamo anche dei giorni meno di vacanza tutto questo non per colpa nostra ma non ci possono fare niente non ci possono dare niente non ci vogliono dare un rimborso dobbiamo ci mettono sul prossimo volo e ce la dobbiamo arrangiare noi ragazzi quindi per colpa non nostra purtroppo con questa tristezza vi lascio alla seconda parte di questo video ragazzi quindi come martedì questo video sarà diviso in due parti e la seconda parte uscirà ora oppure venerdì non lo so ora o venerdì non ne ho idea vabbè comunque in ogni caso ci vediamo dall'altra parte i paesaggi cioè ci sono montagne ovunque qua attorno montagne ovunque foreste guardate quanti alberi ci sono la nostra auto si è completamente sporcata di già l'abbiamo appena ritirata dal concessionario